pack 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 il pack pack non è quello lì per il diamond drill sta roba qua ma che ne so non lo so fammi scrivere pack oh geniali geniali pack pack ci bravisci mi roga ci bravisci mi voglio questa cosa qua il force pack si vabbè certo si vabbè ma lì ne entrano si guarda guarda qua mamma mia craftarle è una stronzata si craftarle è una stronzata serve della lana del legno strano no però lì ci entrano soltanto quelli dei mob la roba dei mob la forester backpack si no ma in tutti me sa che stronzata ah qua miner's backpack ah 15 slot ma dai ma che merda come 15 slot cioè quindi ci sono 1 2 3 4 5 cioè tanto ma dai ma che merda come 15 slot per me cioè mi dovrei fare l'ender pack come si crafta l'ender pack scusatemi perché l'ender pack non mi fa vedere come si crafta no dovresti farti il forge il force pack si è molto e direi e direi ma che palle oddio che c'è il force gem eh no ancora no sono in miniera oddio che cos'è ora raccogliamo tutto mentre raccogliamo tutte queste cose dovrei anche mettere si 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 lo so lo so lo so ora vado a raccogliere tutto vado a raccogliere tutto tutto si mamma mia presto dovrò comprare anche un secondo monitor perché seriamente ragazzi c'è leggere i commenti è improbabile cioè impossibile ragazzi l'alchemic bag è della techit non è dell'ftb stiamo sta giocando nel nel launch dell'ftb ok fantastico state parlando di cose che io non so di che cosa state parlando bravissimo perfetto cioè io sto giocando a minecraft unleashed poi voi mi parlate techit ftb mai lette ste cose allora vediamo 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 oh quarzo 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 il quarzo so che è utile ma chip è un'informazione potrei farmi quello smistamento cioè che si è fatto Luke certo ovvero aspetta della no aspetta quale è quello che ha fatto sta facendo il live si quello smistamento che è tipo un casino cioè devi farti gli mcable come si chiamano gli mcable è un casino però lo potresti fare tranquillamente dico in questa mod dico in questa ftb la potrei fare puoi fare si mi vedrete sclerare non poco perché io non le so fare per niente ste cose non è che dici vabbè lo sai fare perciò ti riesce no non lo so fare è proprio bravo pepo bravo pepo mentre mettiamo le torce perché non si vede un'emerità no dove sei tua sorella perché mi stai headshotando vaffanculo scheletura di merda allora mi servirebbe un arco che io non ho oh guarda ho una testa conficcata nel cervello guarda e sono ancora vivo incredibile quando si dice no la logistica è gli m gli m è un'altra mod eh quella quella che ha luk ovvero che tipo non lo so spiegare capito cioè lui clicca una cosa e gli si apre un inventario enorme con tutti gli oggetti dentro cioè a me si sente sto cosa mi fa impazzire oppure come ha fatto l'energia mi serve tanta energia e io ovviamente so come farla cioè tu pensi che io non sa chi non sa fare i pannelli sono la ricetta ma perché c'è lo scheletro messo la vaffanculo tua sorella tanto io gli scrivo i tuoi colpi gli schivo ah è caduta e si è fatto male lo stupido spada ti è 18 ti è 18 ti è 18 no sono morto sono morto no 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 pepo no lagga morto non lo vorrei dire non lo vorrei non lo vorrei dire mi ha scritto Sam no seriamente mi ha poccato Sam ma ho scritto uè e sono morto sono morto appena mi ha poccato Sam no seriamente mi viene da piangere Sam è incredibile come merda fai cioè come merda fai cioè seriamente Sam sono morto comunque buongiorno Sam allora non so se sta guardando il live sinceramente oddio sono morto qua ok l'entrata è qua perfetto sono morto qua dimmi che c'è tutta la roba altrimenti mi viene da piangere no tutto 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 allora spada 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 prima tu devi crepare ma quanti cuori mi leva c'è mille mila cuori mi leva ma come merda fa come fa non sta guardando ok non sta guardando il zaino e il miner eh Lollo si l'ha visto però dice che c'ha pochi pochi slot per metterci la roba no ma va 15 slot no non ha senso cioè vabbè è sempre meglio di niente però tipo cacca bupuno allora è morto guarda è là è là che mi aspetta lo stronzo guardatelo è lì che mi aspetta vaffanculo cioè guardatelo c'è un arco no c'è una freccia però sì una freccia senza arco me ne faccio davvero tanto ma ho raccolto tutta la roba cioè già sono pieno già sono pieno quanto ferrò dove è il ferro ah qui è 43 2 eh 31 di copper ho tutti i minerali inutili ma dai guarda se c'è la minimo stonna c'è la minimo stonna eh sì mi sembra che c'è vattela che almeno eh puoi cambiare il ferro in oro e l'oro in diamante capito no sì minimo stonna eccola qua eccola qua ci sono pure le minimo princess il minimo spesi serium che cos'è ah poi c'è lo shard of minimo poi il minimo dust serve la minimo stonna eh sì lo so oddio guarda c'è una oh guarda una freccia sotto l'ascella tipo a mo' di termometro no e una freccia conficcata nella testa oh la freccia sotto l'ascella è sparita si vede che ha misurato la temperatura allora sto latest death io lo leverei così nascondiamo le prove che io sono morto così molti diranno ah pepo sei morto no non c'è il latest death allora però prima prendiamo sto pistacchio è andato male poi previamo asterisco waypoint latest death facciamo delete delete io non sono mai morto mentre new waypoint scriviamoci si proprio così bravo pepo caverna e facciamo dawn dawn back to the game allora per chi conoscesse il gioco the game ragazzi avete perso tutti ah ah ok fantastico allora ok fantastico fantastico raccogliamo tutte le cose raccogliamo tutte le cose l'alchemic bag c'è eh sì l'ho vista l'alchemic bag Minecraft Town è un casino ah c'è sì vabbè musica nel mentre è musica di sottofondo fastidiosa madonna fastidiosa eh comunque ragazzi a livello di audio sentite bene cioè sentite chip più forte o più piano rispetto alla mia voce no perché mi piacerebbe che entrambe fossero settate alla giusta intensità sì dicono tutti di sì ok ragazzi piano 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 ok alaspettare chip parlo un attimo allora fammi ascoltare live che no sentito puro piano piano ok alaspettare chip parlo un attimo allora fammi parla chip é live crei la platura bata z as terri chip parlo un attimo parla ci è la locura bla 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 ok chip è stato molto più piano rispetto alla mia voce Allora andiamo su Chipster Change a volume Parla ora Ora si ora si ora si Che ti sentiamo bello infilato nelle pupille Perfetto Mamma mia Mamma mia Chipster nelle pupille Oddio mamma Ok però diciamo che ora mi stai assordando Ma non è un problema Basta dalla rutellina delle logiche Questo è un buon vantaggio No non è un buon vantaggio Ho notato che invece è una stronzata paradossale Perché io quando abbasso Sì Quando io abbasso dalle rotelline C'è la rotella delle logiche Che mi abbassa il volume generale di windows Ah Allora tocca impostarlo Ecco capito Cioè io non sto abbassando il volume delle cuffie Per questo ogni volta che voi registravate Non potete impostare l'audio delle voci uguali Come ammazzo con lo scheletro di merda? No io lo devo ammazzare Chip di a pepo di ripare la casa Ma che rifare? A me non la rifaccio È tanto bello Oh c'è il coso? C'è il shard No Ok va giù eh No va giù niente No va giù niente Stai zitto Non mi portare sfiga Allora Sì vabbè bravo pepo È proprio tutto Mamma Dov'è? Come fa a spararmi? No guardalo Dov'è il bastardo? Allora intanto mangiamo Così recuperiamo vita Cioè se mi prende mi ha ucciso il matone Ti ho ucciso il matone Allora nemmeno mettiamo una torcia così lui ci vede meglio Madonna geniale Allora L'ho ucciso! È morto? È morto! La 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 Bravo pepo Dipende Se hai attivato le cheat si può trasportare Se no 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 non mi trasporto Userò i waypoint Diciamo soltanto come zona Visto usa Oddio lì c'è uno spawn di Di ragni Di ragni? Sì ci sono le mille mille ragnatele Oh che mamma mia Sti cristalli tutti colorati mi piacciono da morire Non vedo là di cominciare la towncraft Anche se non ne capisco un cazzo La towncraft Mi piace troppo Cioè l'ho vista giocata da Luke E quando si è craftato il golem è stato qualcosa di eccezionale Allora Vediamo Raccogliamo tutto questo ferro Possibilmente senza farlo cadere Nel Nell'interiore Della caverna Perfetto Raccogli tutto pepo Allora Mamma mia Ma Ma piace vedermi scavare No perché dico se non piace Io continuo lo stesso Ah ah Ma sei cattivo Ok Allora Fai osu No 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 ragazzi Non ho niente osu Devo caricare questo video su youtube ragazzi Cioè Non è che posso caricare un video dove Cioè lo chiamo pepocraft 05 Capite Vedete giocare pepo nella pepocraft Che non lo so Gioca osu Oh No ragazzi No ragazzi Infatti una cosa che voglio dire a tutti Sia a quelli che seguono Che mi stanno guardando ora in live Sia a quelli che successivamente lo guarderanno su youtube Ripeto La pepocraft è una serie Tutta Messa sul tubo Cioè sarà tutta su youtube Cioè non ci saranno puntate Come dire spezzate Oh caverna Fantastico Cioè non so se è chiaro il concetto Cioè anche se lo gioco in live Poi alla fine in live lo metterò tutto su youtube Tutto quanto Anzi a proposito Ho un consiglio da chiedervi ragazzi Ehm No sono caduto L'affanculo Che merda Dai Ma dai stavo parlando Stavo dicendo una cosa seria Oh dai C'è il tuo cane che abbaia e mi assorda Ma io ho un cane Sì Eh no perché È monte Eh Oggi va via Oggi va via No che oggi va via Oggi va via Cioè lui è un Che fortuna Pure io ho capito È un cane che abbaia No capito Ha un criceto Por madonna Si ci mettono pure io Si chiama laica Ah laica che tenero Che nome da cricero È come la prima cagnolina Che è andata sulla luna No 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 Crepa scheletro di merda No no giuro se muoio ti in culo Giuro se perdo gli oggetti Giuro se perdo gli oggetti Ragazzi Ma perché non dormo Perché non dormo Perché Perché Dormi Dormi Non puoi ci sono i ragni No c'è tua sorella Non ho nulla con cui picchiare sto ragno Ok Affanculo Dormi Dai Peppo veloce Dai Tutta la roba Tutta la roba No basta ragazzi Mi devo fare un'armatura al più presto Agli stivali quelli che se cadi non ti fai nulla Ma ci sono anche questa modalità Agli stivali che se cadi non ti fai nulla Ehm Lo sai che non lo so Allora proviamo allora Ovviamente capito Si chiamavano fall tipo No 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 Vaffanculo Creeper di merda Cioè non può neanche controllare crafting Una persona Perché se li controlla Arrivano i creeper Che ti devono Uccidere Ti dicono di guardare I white point Devi teleportarti No 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 Mi posso teleportare Pure il ragno si ci mette Pure il ragno si ci mette Pure il ragno si ci mette Che fa Quanto vita ha 9 8 7 6 5 4 3 2 1 E fa Muori o vuoi un bacetto per crepare Ok 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 Recuperiamo vita Recuperiamo vita Però non corriamo Perché se corriamo La fame va A puteins Devo recuperare Tutta la mia roba Devo recuperare Tutta la mia roba Oh guarda Della lava Oh guarda Della lava La fai a buttarti Nell'acqua? Eh Dov'è l'acqua? È sotto L'ho vista Oh eccola là Oh grande chip Grande chip Allora Qui c'era tipo Il mondo Dov'è la spada? Qua Allora ok Prendiamo la spada Le torce le ho prese Creeper 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 No Non scoppiare sui minerali No 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 I minerali No No I minerali I minerali No Non è che Non è che Ti ha colpito Tanto Vabbè Aspetto un attimo Aspettate un attimo Ragazzi Ora giuro Faccio luce Ma perché cadete dal cielo? Perché? Mandate via Mob di merda Mob di merda Muori Dov'è tutta la mia roba? Dov'è? Guarda pure gli slime di merda Ora mo si ci mettono Oh guarda qua il copper 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 Ho preso tutto Sì 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 Tutto 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 Allora Rimpostiamoci l'inventario Dov'è sono le torce? Dov'è sono le torce? Ho perso le torce Non ci voglio credere Non c'è del legno? No Ah no sì Uno due tre Uno due tre Sì ma io avevo le torce Ce ne avevo venti Non le avevo finite Che cacchio Cioè certo Ho riempito l'inventario Però eh Tuttavia la roba Tipo la carne marcia Che tanto non ti serve Ah eccole qua Eccole qua Le robe Allora vediamo Tipo la freccia La possiamo buttare Mentre raccomandiamo l'altro Ma che cos'è sta cosa? Sta clew La posso buttare o serve? La clay? No no ti serve No la clay No ti serve niente Le piume di pipistrello Ah sono le piume di pipistrello Buttiamo Adesso mi serve la piume di pipistrello Cioè seriamente? Cioè capito? Io arrivo alla miniera Ovvero la parte interessante Della miniera Io ho l'inventario pieno Ovviamente Mi sembra più che giusto no? Cioè ovviamente Certo Una volta che arrivi in miniera Cioè la miniera Quella che davvero ti serve Vabbè raccogliamo intanto I materiali che già ho I forge E infatti dicono di Le forge gem ci sono Dove sono le forge gem? E quelle cose gialle Ah queste cose Ah tipo Sta cosa qua che sembra Un blocco con la varicella Bravissimo Quelle lì le force gem Ok ora le raccolgo tutte Quindi almeno ci puoi Anzi adesso ti puoi fare La canvas eh Dipende quanto le raccogli Ok fantastica Allora buttiamo Tutta sta flint Perfetto Raccogliamo le force gem Vedi io butto la flint E non ho più spazio Dov'è? Dov'è? Eh mi sa che è caduto Vabbè buttiamo sta merda Vai ci mettiamo Tipo ok No vabbè Sì la spada la buttiamo Allora Force gem Raccogliamo tutta No 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 Ti prego Ti prego Oro Oro No oro sto cazzo Sto morendo Sto morendo No 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 Ti prego no Di nuovo no Di nuovo no Di nuovo no Non muori Non muori Di nuovo no 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 Peppo ti prego Peppo Peppo No La roba Nella Gioco di merda Però lo cancella il mondo della pepocraft Seriamente Che rottura di palle Dov'è la testa No raga non ve la prendete a male Seriamente a me sta scocciando Allora come si fa Allora option Cheat mod Apriamo qua waypoint La test deat Non mi ci posso teletrasportare Perché Perché se non hai impostato Le cheat all'inizio non puoi Perfetto Allora intanto Rimettiamo normale Recheat mod ovviamente ragazzi Perfetto Perciò anche se volevo barare Non posso Neanche volendo Ottimo Fantastico Ora vediamo che roba ho perso Perché sicuramente avrò perso roba che mi serviva Guarda tutto nella lava Tutto nella lava Tutto nella lava No Questo cazzo Crepa Zombie di merda Che cosa ho perso Che cosa ho perso Che cosa ho perso Ho perso tutto Ho perso Cioè non ho perso niente Che ho perso Che ho perso Le forse gemme ci sono Allora è perso L'oro c'è No il ferro Come il ferro No ce l'ho il ferro Ce l'ho ce l'ho C'hai il ferro Sì Ok perfetto Guarda che hai perso tanta roba Perciò sono tanto le cacchette Sì volendo sì Sì allora prima che faccio Para loro Sì bravo pepo E tu sì che riuscirai a fare quello che vuoi fare Mi raccomando bravo pepo Allora Che sta facendo Ok si sta levando sta cosa No 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 Ok Trovo il diamante Eh no aspetta un attimo Se ora il diamante Lo so che posso trovarlo Ragazzi perdonate Sto levando tutta sta lava Perché non voglio morire Seriamente Madonna quanta lava Oddio là c'è luce Ah c'è lava Ok Allora intanto